La scuola mi sta piacendo molto, è dal 19 agosto che si sta maltenendo tutti i giorni e Mattia lo ringrazio, mi ha fatto giocare un po' più un minuto, adesso è ricominciata il ritorno, l'andata stava bene il campo pieno, l'ho perso solo una partita e mi sta trovando bene con una squadra, una squadra giovane, mi trovo bene. Abbiamo accampato il 19 e abbiamo giocato molte partite come si vede, abbiamo vinto anche di molti punti, invece certe abbiamo abbassato l'intensità, abbiamo perso per certe facili che dovevamo perdere. Non allenarci molte volte insieme perché noi ci andiamo a corsare qui, gli altri si allenano da soli, non vediamo a volte gli stimi prima della partita così, però spero che noi ci classificheremo per le prime quattro squadre e andremo a più off. Ma qualche differenza sicuramente tra gli spazi di gioco, gli spazi che sono individuano sono quelli del 19 e i giocatori soprattutto fisicamente ti spostano quando vogliono e anche la loro mentalità con i passaggi, gli schemi è molto più avanti. Sì, è molto più avanti al pubblico che rispetto alla partita del 19 e la adrenalina sale e stare concentrati ai propri difficili. Ciao!